bella tutti quanti ragazzi allora siamo nelle semifinali stasera una grande partita contro sta squadra qua con questo russo qua cosa insomma quello che è turco va bene ragazzi guardate lui adesso è terzo ho detto io che sarebbe sceso anche perché l'ho battuto pure io l'ho battuto sono l'unico che l'ha battuto guardate ha una partita persa che l'ho battuto io l'unico del campionato che l'ha battuto io ho perso anche io delle partite ma vabbè perché insomma non ho messo squadra non sono entrato in tempo insomma a parte quelle all'inizio e allora ragazzi stasera c'è una super partita semifinale contro questo qua non so neanche personaggio sia non so neanche se capirà qualcosa dal video qua speriamo che non capirà proprio un bel niente speriamo anche che non segue il mio canale su youtube che così non vede la formazione che io andrò a farvi vedere e anche le tattiche stasera ragazzi allora prima che inizia le partite carico subito il video su youtube e vi faccio vedere tattiche tutto quanto quello che userò stasera contro di lui allora siccome l'ho già battuto in campionato eccolo qua un paio di giornate fa eccolo qua 2 a 1 battuto in campionato e adesso volevo usare la stessa stessa formazione e tattiche che ho usato quella volta e ovviamente sperando di vincere ancora e passare avanti nelle sue nella finale si ob allora di solito io uso 4 2 3 1 e 4 5 1 in copa per essere sicuro di passare avanti questa serata però userò sempre 4 4 2 come l'ho usato anche in campionato contro di lui allora mettiamo subito i giocatori forti più o meno io metto quella che segnano so che sono sicuro che si speriamo adesso vediamo allora qua metto questo qua vediamo qua ok mettiamo un po veloce così anche perché non ho tempo non so qualche quello più bravo insomma ragazzi basta per fare la vostra squadra basta che andate qua su top letter o come cavolo si dice vabbè e guardate i giocatori che hanno i voti più alti eccolo qua questo qua il mio centrocampista fechir è primo adesso lo metto eccoli qua vediamo classifica marcatori eccoli qua insini anche io userò insini formazione ragazzi allora questo va bene va bene allora mettiamo qua abbiamo 105 allora 105 ragazzi mettiamolo qua anche perché non giochiamo tanto non giochiamo con contropiedi allora e poi cosa vediamo tra questi due difensori qua quale meglio questo ha fatto 5 banane questo qua banane sono tutti nuovi ecco questo è un po più vecchio ma niente da fare allora mettiamo sempre l'altro eccolo qua ok un difensore 108 ok ragazzi passiamo subito alle tattiche qua mettiamo sempre qualcuno eccolo qua qua li mettiamo a caso tanto non è che cambia più di tanto ok dove si aspetta che cambia l'attaccante qua perotti portiere ok allora tattiche ragazzi eccole tiki tacca banane siccome l'arbitro è rosso e siamo in coppa zio bili dovrei usare per sicurezza e contrasti normali però ho paura di dei falli e vabbè ragazzi prudente volevo giocare prudente però le partite in coppa sono sempre più difficili di quella nel campionato e allora lasciamo normale chi se ne frega ok siamo a posto così anche perché siamo in coppa e essere troppo gentili non va tanto bene vediamo su 80 aiaiaiaia sono pieno di cartellini sono pieno di cartellini non va mica tanto bene allora specialisti mettiamo pure specialisti ragazzi dovete metterli ogni partita anche se sono cambiati giocatori anche se usate sempre stessi qua cambiateli o fate finta di cambiare insomma basta che cambiate qualcosa sui specialisti ragazzi e ora insieme ai rigori punizioni 108 angoli mettiamo mettiamo questo che ha più assist perfetto eccoci qua ragazzi come avevo detto il brickton qua non avrebbe mai finito come primo il campionato è una bella squadra anche però non può vincere sempre ragazzi infatti roba tutto subito adesso al ritorno è stato un po difficile sta facendo per il campionato boia obiettivo 13 posizione 3 madonna a un punto di distanza va buon ragazzi e vi faccio vedere il valore rosa eccolo qua 500 stanze 5 milioni io 800 un po' di più sono 300 milioni di differenza però visto il valore qua 300 sono pochi va bene ragazzi speriamo di vincere stasera ho fatto vedere la formazione tattiche tutto quanto non ci sono i ritiri quindi banane e speriamo di vincere ragazzi speriamo che non ci spia o altro eccolo qua alle 6 10 entrato vabbè facciamo chiudiamo le porte ecco chiudiamo le porte per sicurezza ragazzi per il risultato lo scriverò nella descrizione stasera verso le 11 così quando mi connetterò di nuovo su esse va bene ragazzi io vi lascio qua vi ho fatto vedere tattiche formazioni tutto quanto e vediamo se vincerò o perderò ragazzi vi ho fatto vedere quello che gioco una partita molto importante sto un po rischiando anche perché l'ho battuto col 4 4 2 b l'altra volta due tre partite fa di solito gioco difensivo con contropiede in coppa però oggi siccome l'ho battuto quella volta speravo di fare qualcosa anche oggi di combinare qualcosa di buono adesso vediamo ragazzi e speriamo bene è terzo penso finirà terzo adesso va buono ragazzi io vi lascio qua e ci sentiamo grazie a tutti